Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, vi avevo annunciato l'uscita di questa collezione con un video news ed ora eccola qui, in carne e ossa, le Go Minions ecco qua due pacchi di teneroni, la merenda di casa Modena ecco qui la collezione e subito in regalo una Go Minions 18 con mini 3D in tre diversi colori realizzate in Italia da collezionare quindi in ogni pacco si trova una sola gomma, una sola gomma e sono in totale 18 io ho trovato questi teneroni la merenda ad 1 euro e 39 l'uno però non escludo che in altri supermercati possano costare un pochino di meno oppure un pochino di più comunque apriamoli, facciamo l'unboxing, unboxiamo e allora panino tè al limone ed ecco qui la gomma che è contenuta in una bustina simile a quella delle figurine questa bustina simile a quella delle figurine allora apriamo, spacchettiamo facciamola uscire eccola qua la nostra Go Minions eccola qua qualche problema di stampa questa qui anche abbozzata vedete? vediamo se c'è la check list all'interno, sì eccola qua la check list, ve la faccio vedere questa è tutta la collezione completa queste sono tutte le Go Minions realizzate da Casa Modena eccole qua le Go Minions questa è tutta la collezione completa fermo immagini così vi fate lo screenshot e poi ci mettete una bella X sopra quando insomma trovate la gomma in questione allora la prima gomma l'abbiamo vista la prima Go Minions anzi l'abbiamo vista e procediamo subito con la seconda nel frattempo ragazzi io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video sulle sorpresine tutti i video sulle action figure sui video games, sulle cards, sulle figurine questo è un canale per i collezionisti di tutte le età e per qualsiasi tipo di collezionista quindi ragazzi iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina così che non vi perdete nessun video nessun aggiornamento poi ci sono anche i video news dove vi informo sulla possibile nuova riuscita di sorpresine, action figure quindi vi informo sull'uscita di nuove collezioni a mcdonald's o di nuove collezioni che escono nei supermercati e questa è la seconda Go Minions di oggi questa è stampata sempre abbastanza male vedete tutte queste righe stampata abbastanza male però almeno non è abbozzata comunque diciamo che la qualità non è eccelsa però sono carine la qualità però non è eccelsa potete ben vedere qui tutti i difetti di stampa che ci sono eccoli qua comunque ecco qui le nostre Go Minions detto questo ragazzi io vi rinvito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri video commentate questo video mettete mi piace a questo video condividete questo video in the box ci sono i link alle pagine facebook instagram, tiktok e twitch del canale seguitemi anche lì sempre in the box c'è il link al blog se volete fateci un salto e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video ciao belli